a chi vai vicino ogni tre e quattro vorrei dire che si fa male ma te ne vedi tutto il film stasera invece io ma vai che te vedi non 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 stasera che te vedi ah Sanzone e i piagnistei eh Sanzone Sanzone manda un butto le comande guarda questa volta ti taglio un'asse eh no ma erano tutti i piagnistei oooh 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 i figli stei i figli stei eeeh non è re i figli stei e lo stai sbagliando pure a te oi che non sbagli sono li allora a me non ci siamo capiti lo stesso ma perché a te i film eeeh ma manca da dire per esempio manca da dire un programma intelligente che sacci un programma scientifico un programma che parla di cose della natura che ne sacci come si come è nato il mondo i programmi scientifici fanno cultura si con un marolo così per esempio cac e super cac due sesso per vivere da fatto ok televisione 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 la Making ecom e acquist Tras quark эт Pier o Angela quark e moveco impuri quark chi li è l'unico programma ballot che tratta quark e ti cac eoc wark gameplay saper Io figli ti piace invece a me mi piacciono le telenovela il genere del telenovela lo sapevo ti piacciono le telenovela ieri sera mi avevi visto una puntata di questa di questo serial e che cos'era io mi sono emozionato assai è stata una puntata a club una puntata bellissima bellissima io non ci posso pensare l'ultima puntata è fannuta no no sto seguite che ero sono 4 500 5 mila puntuati che io stavo un po' d'accordo non mi racconto sta scena perché è stata bellissima io sono stata incollata alla televisione lei stava nella chiesa che si stava per sposare un bello pietze vestito bianca con un velo lungo lungo a folla così a giù